Medjugorje intanto diventa un posto blindato e chi va a messa lo fa proprio rischio e pericolo. Il villaggio subì molte vessazioni, molti furono imprigionati per alcuni mesi, la persecuzione fu di carattere amministrativo, non si aveva il lavoro, i ragazzi a scuola venivano presi in giro, venivano immarginati, io stesso ho assistito alle retate dalla polizia segreta che veniva da Sarajevo, quindi il villaggio evidentemente ha pagato un tributo, non c'è dubbio. Ma nonostante le persecuzioni Medjugorje non finisce, la milizia comunista non riuscirà a reprimere il fenomeno delle apparizioni, sarà invece il regime a crollare e l'inizio della fine avverrà esattamente dieci anni dopo la prima apparizione della Madonna a Medjugorje. Il 25 giugno 1991 infatti scoppia la guerra che investirà la Jugoslavia per oltre quattro anni, portando devastazioni e divisioni insanabili. L'Herzegovina è forse l'area più delicata dell'intera Jugoslavia, il punto di incontro e di scontro tra croati cattolici, serbi ortodossi, bosniaci musulmani e montenegrini. È proprio qui che corre la faglia dell'odio tra etnie e religioni, il territorio conteso da tutti, dove si gioca il destino dei Balcani. È il confine tra benessere e povertà, il varco verso il mondo islamico. Forse non è un caso se la Madonna è apparsa proprio in questa regione, chiedendo pace, diventando così per tutti, la Madonna della pace. Sì, a volte sentiamo i bombardamenti di Mostar anche qui a Medjugorje e l'unica cosa che facciamo è pregare perché si fermi questa terribile guerra, perché cessino tutte le sofferenze della gente in tutta la Bosnia e in tutta la Croazia. Noi proviamo a aiutare perché quella guerra finisce, come ha detto Madonna, con preghiera e con digiuno. Medjugorje è deserta in questa settimana di passione. Lontano si ode il suono cupo del cannone a ricordare che la guerra è vicina, molto vicina. Da una settimana con l'artiglieria e i federali colpiscono bersagli sull'altipiano. Preferite le chiese, perché risultano ben identificabili sulla carta geografica ed è possibile prenderle di mira anche da molto lontano. Il sindaco Milan Luric ci dice, se i serbi con l'esercito tenteranno la conquista di Medjugorje, noi moriremo tutti ma loro non passeranno. Il piano dei nemici era proprio di distruggere Medjugorje. Io sono stata, diciamo, lì quando quello aereo, Mig, era venuto con la carica di distruggere la chiesa di Medjugorje e il villaggio. Allora lui dice, era un serbo e aveva questo Mig con una bomba o due bombe per distruggere Medjugorje. Ma lui dice che quando si è avvicinato sopra Medjugorje all'improvviso ha visto un certo nuvola che non si spiegava perché lui sa cosa è una nuvola che si trova in cielo. Invece questa cosa era stranissima. Lui subito ha capito che c'era una cosa un po' strana, anormale, forse super naturale. Allora ha preso paura e ha perso il controllo, diciamo, la direzione. E allora è la regola quando c'hai una bomba da mettere in qualche parte, se non puoi metterla lì, devi lasciarla più lontano in un deserto. E allora ha lasciato la bomba. Grazie a Dio che l'ha lasciato perché poco tempo dopo è stato fatto cadere dall'aereo con i croati che hanno... Sparato. E' sparato. Ecco. Allora lui ha preso il paracadute e è caduto proprio nelle mani dei croati che l'hanno fatto prigioniere e così abbiamo saputo cosa è successo quando voleva bombardare. Medjugorje è stata preservata dalle distruzioni che c'erano proprio lì vicino, per esempio a 20 km di Ciappolina, distrutta completamente. Bostar, una maceria unica, Medjugorje è rimasta totalmente illesa. La guerra finisce ufficialmente nel 1995 con la firma degli accordi di Dayton. Così l'Herzegovina oggi è un'entità croata e cristiana all'interno di uno Stato, la Bosnia, a maggioranza musulmane.